Vedete qua? Non spero che lo vediate. Si vede la tonalità di coloro. Uno va, uno dì. Cioè, uno dì, uno va. Ho visto quei gassi. Ho detto che la bella. Perché? Se puoi lasciare cattivare i bottiglietti, no? Forse comerebbe prima poi gli altri bottiglietti che non sono. Questa è una cosa che io ho detto a Eto, se portiamo magari a un momento così, è una cosa che magari tanti fanno, no? Però nessuno poi ha focalizzato, ha messo in bella. Io l'ho fatto, gli scaldi costriani mi sono passato. Quindi se mi la bottiglia è così. Come un pira, la davanti. I bigliettici, io alla fine mi pergo, no? Però è... I bottiglietti non si pergo. Io ho fatto i bottiglietti del 1997 che andavano 20. Tante le ho scartate, no? Ma perché erano bottiglie che non erano state bottigliette? Tante non erano prodotte per... Un vino di lunga conservazione, ma era un vino di pronta bella. Poi per me sono passati... Tra 1997 adesso sono passati da 10 anni, quindi... Penso che siamo andati al di là di ogni giurosa spettatura. Però ecco... Adesso non vuol dire, se uno invece produce per... Poi vea dopo, allora deve attrezzarsi per... La tecnica migliore è quella di bottigliariettale. È possibile trovare i tempi delle bottiglie. Ma quando il vino è solo nella bottiglia, è una bottiglia con netta assistante, no? Al parametro tappo, al parametro prima, al parametro dove viene conservata... Sono molte cose che sono vicino al suo passo... Però uno dice... Se c'è ricazzina... Se non sta la lampada tra luce, la parla della luce... Magari vede un... Cioè guardando con la lampada... Si vede, si vede... Si vede, si vede... Però... Se ne ha due, non riesce a capire il cibo. No? Però... Diciamo che quella... Tra le due è quella che ha... Riflessi più... Più rosso... È quella più... Più matura... Della... Della... Della serata... Non chiedete millimero terza che c'ho due mani... No, è caro mio... Tu non riesci... Eh no, ma ecco... Facciamo... Questa è la limitatezza dei nostri produttori... Hanno solo due mani... Se fosse Voldavi... Ce ne avrebbe tre, quattro, cinque... Eh che cavolo... Facciamo un riepilogo per... No, qui stiamo... Siamo persi... Dunque diciamo... Adesso siamo in una fase molto seria della serata... In cui si sta cercando di vedere attraverso... Una... Una visione... Su un visore... Lo stato molecolare dell'ossidazione di un vino... E il nostro carissimo guru del vino bianco della Liguria... Fausto... Lui è in grado di riconoscere questa... Questa magliazione molecolare che avviene in trasparenza... E ha classificato i vini in uno, due e tre... Al momento... Abbiamo un primo raffronto in cui... Il nostro Walter Massa... Grande esperto di vino bianco... Non è d'accordo... Ho messo un po' in dubbio... Questa scala... La sono messa in dubbio... Ho detto che il due gli sembrava più buono dell'uno... Ora siccome... A dire che è più buono tra uno, due e tre... C'è 33% di probabilità... E uno ci può anche provare... No capito... Quindi alla fine... Te il 33% ce l'avrai... Di successo... Allora... Qui uno... Che vorrebbe dire... Questa puzza di tutte queste... Di questi... Di questi augusti che ci sono... No... Queste cose... Di cibo al mare... Il sale... Tutte... Si pensa... Ma... Ecco... Questo pesce che... Tutta nella spiaggia... Le preghi adesso... Addirittura... Anche i funghi... Trova anche i funghi... Arriva al mare questo... Ma come fa? Ma... Sono... Ma sono... Le vigne che producono... I funghi... Sono i funghi che dà... Seppure alle vigne... Però... E' anche lì... Signori... Ma... Adinizio... No... No... Stiamo ancora parlando... Calma... Avete prezzo... Signori... Allora... Volete imparare... O volete... Allora... Allora... No... Mia moglie... Che sta pronunciando... Quella signora... Che da 41 anni... Mia moglie... Ecco... Mi è venuta a... A dire... Ma... Avete già... No... Un attimo... Calma... Dico... Mi piace questa disco... E' bello... E' un teatro... Adesso qua... Ecco... Quei mi piace... Ecco... Vabbè... C'è un racconto sul tappo... Che prima... Questa era fuori... Mi prendi il tappo... Questa è una... Questa è un colore... Questo è il colore... Mi prendi il tappo... Non riprendere me... Per questo... Senti... Senti un po' che qui... Sta parlando di perossidi... Mica di... No no... Mica di perossidi... Eh... Mica di perossidi... Qua qui c'è il perossido... Che ne l'ha non c'è... Lui ha ragione... E tu non lo guardi... Non so se ho ragione... No no no... Io so solo che ho perso dicendo... La mia vita è dietro i tappi... Vedi... Vedi... Vedi che non è fatta la vita... Porca miseria... No... Vedi... 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 Non funziona... E tu non ho questo regno... Lo dobbiamo brevettare o no? Molto... Io ho assaggiato solo l'uno eh... Fammi assaggiare due... Perché se no... Come faccio a dire... Con uno solo... Qua sono analoghi... Poi qua c'è la striatura... E la fatta fatta del legno... Questo è il tuo... Ah... E' analogo... Questa è piante... Questa è... Ah... Questa è una penisola... È il primo che non ha capito ... È il primo che